Dopo un'apertura sopra quota 22.000 punti l'indice Fuzzi Mib ha rapidamente perso spinta scendendo con decisione in territorio negativo. Graficamente il Fuzzi Mib è andato a mettere sotto pressione la media mobile a 14 giorni di quota 21.811 punti che ora sta cedendo. Il supporto dinamico potrebbe infatti non essere sufficiente a contenere le pressioni ribassiste che porterebbero successivamente il Fuzzi Mib ad arretrare in direzione di 21.343 punti livello corrispondente ai minimi di inizio mese. Sul fronte opposto il recupero di quota 22.000 punti allenterebbe la pressione ma sarebbe solo una chiusura di contrattazioni sopra 22.290 a dare un primo segnale di riscossa. Dare a 22.290 23.000 punti il Fuzzi Mib potrebbe tentare a lunghi in direzione di quota 22.700 punti dove incontrerebbe la media mobile a 55 giorni. Spunto positivo in mattinata per Tenaris che si muove in controtendenza rispetto all'indice Fuzzi Mib graficamente tuttavia il movimento non è ancora risolutivo né migliorativo dello scenario che rimane neutrale nel medio e breve termine. Per il titolo petrolifero la variazione di oggi è al momento contenuta tra la media mobile a 14 giorni a 11,355 euro e la media mobile a 55 periodi a 11,54. Tenaris deve inoltre ancora chiudere il gap ribassista lasciato aperto ieri a 11,65 euro. Solo oltre tale quota partirebbero attacchi verso l'importante resistenza a 12,04 euro che se superata con incremento di volumi farebbe svoltare in positivo lo scenario di medio periodo. In caso contrario Tenaris potrebbe ripresentarsi al test di quota 11 euro. Pesante arretramento questa mattina per il titolo Luxottica l'azione perde quasi il 2% a metà mattinata e mette a rischio la media mobile a 14 giorni di quota 60,22 euro nonché la soglia psicologica dei 60 euro. A ribasso Luxottica potrebbe tornare sui minimi di inizio settembre a 58,30 euro o quota da non violare per non rischiare un nuovo test dell'importante supporto statico a 55,40. Questo livello aveva sostenuto l'azione durante la forte discesa di metà agosto. Su fronte rialzista Luxottica dovrebbe almeno confermarsi sopra quota 60 euro in chiusura di seduta per poter organizzare tentativi di assalto alla resistenza di quota 62,25 euro. Una chiusura sopra tale livello riporterebbe lo scenario di medio periodo in posizione long. Grazie. 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 Grazie.